Hanno costruito un caso sul nulla, mi è stato teso un trappolone, io non so un tubo. Così Marcello Dell'Utri, a meno di 24 ore dal colpo di scena, andato in onda ieri sera nel corso della trasmissione virus, quando l'ex senatore siciliano ha dato la notizia che i figli di Berlusconi avrebbero chiesto la grazia per il padre. Uno scoop spazzato via in pochi minuti dalla smentita dell'avvocato Ghedini, che ha definito la notizia totalmente infondata e da quella del Quirinale non è mai arrivato nulla, anche perché si fa notare dal colle, a Napolitano già da tempo l'entourage vicino a Berlusconi ha sempre escluso ogni ipotesi di domanda di grazia. Smentite che però non spiegano il perché Dell'Utri sia tornato sull'argomento della grazia e che hanno scatenato oggi nuovamente l'ex senatore siciliano in una rettifica che sembra però contraddire quanto è avvenuto nel corso della trasmissione. Sembra di aver capito e sentito che questa grazia vi era stata, non dico promessa, ma insomma comunque in qualche modo avanzata, no? Vi era stata, diciamo così, data una speranza. Ma promessa da Napolitano, dice? O dall'entourage? Non lo so, dall'entourage, non lo so, guardi, sono cose complicate. Ma i figli sono stati tutti compatti nel chiedere la grazia, tutti e cinque? C'è qualcuno che dice no, una volta che si è deciso che dovevano chiederle ai figli, perché gli è stato chiesto di farla chiedere ai figli, i figli l'hanno chiesto. Oggi Dell'Utri precisa, domanda di porlo sulla grazia, ho risposto non lo so se è stata presentata. Quando mi hanno chiesto se è stata firmata da alcuni figli, ho risposto sarà firmata da tutti, non da alcuni, immagino. Un discorso generico, precisa l'ex senatore, non ho detto, so che è successo, non è successo, che succederà, non gioco su queste cose. Ma più che sulle parole dette o non dette da Dell'Utri, la questione è proprio quella della grazia in sé, un'ipotesi che il Cavaliere forse preferirebbe mantenere sospesa fino alla decadenza. Meglio lasciare aperta ogni strada fino ad allora. E d'altra parte Berlusconi pochi giorni fa aveva detto a Bruno Vespa che Napolitano è ancora in tempo per un provvedimento di clemenza. Il Senato dovrebbe votare il 27 novembre, ma prima ci sarà il 16, il Consiglio nazionale del PDL, quello della rinascita di Forza Italia, su cui pende sempre di più il rischio di una scissione. Oggi botte risposta in fuocato tra Cicchitto e Capezzone. I falchi vogliono la crisi, dice Cicchitto, è un salto nel buio e più di 50 parlamentari sono contrari. Capezzone replica secco, in ballo ci sono decadenze e manovra, no ad un sostegno al governo a prescindere. Un fuoco incrociato da cui dipende la stabilità del governo delle larghe intese.